Siamo giunti al termine del Day 1C, l'ultimo day che porta tutti i giocatori al Day 2 di domani e siamo con il chip leader del Day 1C, ossia Fabio Poschi che ha imbustato 350.000 chips, quindi l'everage adesso in questo momento segna 117, un torneo tranquillo tranquillo. Raccontaci un po' com'è andata la tua giornata. Allora, io ho fatto anche il Day 1 di oggi pomeriggio e lì è stato tutto l'incontrare di oggi, di questa sera. Oggi, nella giornata di oggi mi è andato tutto storto, stasera mi è andato quasi tutto bene. Per fortuna insomma. Per fortuna, ogni tanto capita anche a me. Ascolta Fabio, come pensi di giocare domani, cambierai tattica perché sei tra i primi 3-4 del chip count. Adesso vedrò con chi sono al tavolo, sai, ci conosciamo in tanti, quindi bene o male sappiamo più o meno tutti com'è che giochiamo, bene è una bella parte, dipende, dipende con chi sono, io sono tight abbastanza, quindi non sono molto aggressivo, adesso non vorrei che i miei colleghi dopo sapessero come giocano, no dai scherzo, se mi sento in giornata spero di fare fisso. Benissimo, allora in bocca al lupo e ci vediamo domani alle 14. Ok, grazie, in bocca al lupo a tutti. Ok, grazie, in bocca al lupo a tutti.